Suro 89 Per l'alba, per le dieci notti, per il pari e per il dispari, e per la notte quando trascorre. Non è questo un giuramento per chi ha intelletto? Non hai visto come il tuo Signore ha trattato gli Had e i Ram dalla colonna, senza eguali tra le contrade, e i Samud che scavavano la roccia nella vallata, e Faraone, quello dei pali? Tutti costoro furono ribelli nel mondo e seminarono la corruzione. E il tuo Signore calò su di loro la frusta del castigo. In verità il tuo Signore è allerta. Quanto all'uomo, allorché il suo Signore lo mette alla prova onorandolo e colmandolo di favore, e gli dice Il mio Signore mi ha onorato. Quando invece lo mette alla prova lesinando i suoi doni, e gli dice Il mio Signore mi ha umiliato. No, siete voi che non onorate l'orfano, che non vi sollecitate vicendevolmente a nutrire il povero, che divorate avidamente l'eredità, e amate le ricchezze d'amore smodato. No, quando la terra sarà polverizzata in polvere fine, e verranno il tuo Signore e gli angeli schiere su schiere, In quel giorno sarà avvicinato l'inferno. In quel giorno l'uomo si rammenterà. Ma a cosa gli servirà rammentarsi? Dirà Ahimè! Se avessi mandato avanti qualcosa per la mia vita futura. In quel giorno, nessuno castigherà come lui castiga, e nessuno incatenerà come lui incatena. O anima ormai acquietata, ritorna al tuo Signore, soddisfatta, e accetta. Entra tra i miei servi. Entra nel mio paradiso. Sura novantesima Lo giuro per questa contrada. E tu sei un abitante di questa contrada. E per chi genera, e per chi è generato. In verità abbiamo creato l'uomo perché combatta. Crede forse che nessuno possa prevalere su di lui? Dice Ho dilapidato una quantità di beni. Crede forse che nessuno lo abbia visto? Non gli abbiamo dato due occhi, una lingua e due labbra? Non gli abbiamo indicato le due vie? E chi ti farà comprendere cos'è la via ascendente? È riscattare uno schiavo, o nutrire in un giorno di carestia, un parente orfano, o un povero prostrato dalla miseria, ed essere tra coloro che credono e vicendevolmente si invitano alla costanza, e vicendevolmente si invitano alla misericordia. Costoro sono i compagni della destra, mentre coloro che non credono nei nostri segni, sono i compagni della sinistra. Il fuoco si chiuderà su di loro. Sura 91 Per il sole è il suo fulgore, per la luna quando lo segue, per il giorno quando rischiara la terra, per la notte quando la copre, per il cielo e ciò che lo ha edificato, per la terra e ciò che l'ha distesa, Per l'anima, per l'anima e ciò che l'ha formata armoniosamente, ispirandole in pietà e devozione. Ha successo in vero chi la purifica, è perduto chi la corrompe. I Thamud per arroganza tacciarono di menzogna, quando si alzò il più miserabile di loro. Il messaggero di Allah aveva detto loro, questa è la cammella di Allah, abbia il suo turno per bere. Lo tacciarono in impostura e le tagliarono i garretti. Gli annientò il loro signore per il loro peccato, senza temere di ciò, alcuna conseguenza. Sura novantaduesima Per la notte, quando avvolge con le sue tenebre, per il giorno quando risplende, per colui che ha creato il maschio e la femmina. In vero i vostri sforzi divergono. A chi sarà stato generoso e timorato, e avrà attestato la verità della cosa più bella, faciliteremo il facile. A chi invece sarà stato avaro, e avrà creduto di bastare a se stesso, e tacciato di menzogna la cosa più bella, faciliteremo il difficile. Quando precipiterà nell'abisso, a nulla gli serviranno i suoi beni. In verità aspetta a noi la guida. In verità a noi appartengono l'altra vita, e questa vita. Vi ho dunque messo in guardia da un fuoco fiammeggiante, nel quale brucerà solo il malvagio, che avrà tacciato di menzogna e avrà girato le spalle. Mentre ne sarà preservato il timorato, che dà dei suoi beni per purificarsi, che a nessuno avrà fatto un bene per ottenere ricompensa, ma solo per amore del suo Signore l'Altissimo. Per certo, sarà soddisfatto. Sura 93 Per la luce del mattino, per la notte quando si addensa, il tuo Signore non ti ha abbandonato e non ti disprezza, e per te l'altra vita sarà migliore della precedente. Il tuo Signore ti darà in abbondanza e ne sarai soddisfatto. Non ti ha trovato orfano e ti ha dato rifugio? Non ti ha trovato smarrito e ti ha dato la guida? Non ti ha trovato povero e ti ha arricchito? Dunque, non opprimere l'orfano, non respingere il mendicante, e proclama la grazia del tuo Signore. Sura 94 Non ti abbiamo forse aperto il petto alla fede? E non ti abbiamo sbarazzato del fardello che gravava sulle tue spalle? Non abbiamo innalzato la tua fama? In verità, per ogni difficoltà c'è una facilità. Sì, per ogni difficoltà c'è una facilità. Appena ne hai il tempo, mettiti dunque ritto, e aspira al tuo Signore. Sura 95 Per il Fico, e per l'Olivo, per il Monte Sinai, e per questa contrada sicura. In vero, creammo l'uomo nella forma migliore. Quindi lo riducemmo all'infimo dell'abiezione. Eccezione fatta per coloro che credono e fanno il bene. Avranno ricompensa inesauribile. Dopo di ciò, cosa mai ti farà tacciare di menzogna e giudizio? Non è forse Allah il più saggio dei giudici? Non è forse Allah il più saggio dei giudici? Sura 96 Leggi In nome del tuo Signore che ha creato Ha creato l'uomo da un'aderenza Leggi che il tuo Signore è il Generosissimo Colui che ha insegnato mediante il calamo Che ha insegnato all'uomo quello che non sapeva Invece no In vero l'uomo si ribella Appena ritiene di bastare a se stesso In verità il ritorno è verso il tuo Signore Hai visto colui che proibisce al servo di eseguire l'orazione? Pensi che segua la guida che comandi il timore di Allah? Non pensi piuttosto che rinneghi e volga le spalle? Non sa che in vero Allah vede? Stia in guardia Se non smette Noi lo afferreremo per il ciuffo Il ciuffo mendace e peccaminoso Chiami pure il suo clan Noi chiameremo i guardiani No, non gli obbedire Ma prosternati E avvicinati Sura 97 In vero lo abbiamo fatto scendere nella notte del destino E chi potrà farti comprendere cos'è la notte del destino? La notte del destino è migliore di mille mesi In esse discendono gli angeli e lo spirito Con il permesso del loro Signore Per fissare ogni decreto È pace Fino a levarsi dell'alba Sura 98 I miscredenti fra la gente della scrittura E gli associatori Non cesseranno finché non giunga loro la prova evidente Un messaggero da parte di Allah Che legge fogli purissimi Contenenti precetti immutabili Coloro cui fu data la scrittura Non si divisero Finché non giunse loro la prova evidente Eppure Non ricevettero altro comando Che adorare Allah Tributandogli un culto esclusivo e sincero Eseguire l'orazione E versare la decima Questa è la religione della verità In verità I miscredenti fra la gente della scrittura E gli associatori Saranno nel fuoco dell'inferno Dove rimarranno in perpetuo Di tutta la creazione Essi sono i più abbietti Quelli che invece credono E compiono il bene Sono i migliori di tutta la creazione Presso il loro Signore La loro ricompensa Saranno i giardini di Eden Dove scorrono i ruscelli In cui rimarranno in perpetuo Allà si compiace di loro E loro si compiacciono di Lui Ecco cosa è riservato A chi teme il suo Signore Sura 99 Quando la terra sarà agitata nel terremoto La terra rigetterà i suoi fardelli E dirà all'uomo Cosa le succede? In quel giorno racconterà le sue storie Già che il tuo Signore Gli le avrà ispirate In quel giorno gli uomini usciranno in gruppi Affinché siano mostrate loro le loro opere Chi avrà fatto anche solo il peso Di un atomo di bene Lo vedrà E chi avrà fatto anche solo il peso Di un atomo di male Lo vedrà Sura centesima Per le scalpitanti ansimanti Che fa sprizzare scintille Che caricano al mattino Che fanno volare la polvere Che rompono in mezzo al nemico In vero l'uomo è ingrato verso il suo Signore In vero è ben conscio di ciò In vero è avido per amore delle ricchezze Non sa che quando sarà messo sotto sopra Quello che è nelle tombe E reso noto quello che è nei petti Il loro Signore in quel giorno Sarà ben informato su di loro Sura cento unesima La percotente Cos'è mai la percotente? E chi potrà farti comprendere cos'è la percotente? Il giorno in cui gli uomini saranno come falene disperse E le montagne come fiocchi di lana cardata? Colui le cui bilance saranno pesanti Avrà una vita felice Colui che invece avrà bilance leggere Avrà per dimora il baratro E chi potrà farti comprendere cos'è? È un fuoco ardente Sura centoduesima Il rivalleggiare vi distrarrà Finché visiterete le tombe Invece no Ben presto saprete E ancora no Ben presto saprete No se solo sapeste con certezza Vedrete certamente la fornace Lo vedrete con l'occhio della certezza Quindi in quel giorno Sarete interrogati sulla delizia Sura centotresima Per il tempo In vero l'uomo è in perdita Eccetto coloro che credono e compiono il bene Vicendevolmente si raccomandano la verità E vicendevolmente si raccomandano la pazienza Sura centoquattresima Guai ad ogni diffamatore maldicente Che accumula ricchezze e le conta Pensa che la sua ricchezza lo renderà immortale? No sarà certamente gettato nel lavoragine E chi mai ti farà comprendere cos'è la voragine È il fuoco attizzato di Allah Che consuma i cuori In vero si chiuderà su di loro In estese colonne Sura centocinquesima Non hai visto come agì il tuo signore con quelli dell'elefante? Non fece fallire le loro astuzie? Mandò contro di loro stormi di uccelli Lancianti su di loro pietre di argilla indurita Li ridusse come pula svuotata Sura centoseiesima Per il patto dei coreisciti Per il loro patto delle carovane invernali ed estive Adorino dunque il signore di questa casa Colui che li ha preservati dalla fame E li ha messi al riparo da ogni timore Sura centosettesima Non vedi colui che taccia di menzogna il giudizio? È quello stesso che scaccia l'orfano E non esorta a sfamare il povero Guai a quelli che fanno l'orazione E sono incuranti delle loro orazioni Che sono pieni di ostentazione E rifiutano di dare ciò che è utile Sura centottesima In verità ti abbiamo dato l'abbondanza Esegui l'orazione per il tuo signore E sacrifica In verità Sarà colui che ti odia non avere seguito Sura centonovesima D O miscredenti Io non adoro quel che voi adorate E voi non siete adoratori di quel che io adoro Io non sono adoratore di quel che voi avete adorato E voi non siete adoratori di quel che io adoro A voi la vostra religione A me la mia Sura centodecima Quando verrà l'ausilio di Allah E la vittoria E vedrai le genti entrare in massa Nella religione di Allah Glorifica il tuo signore Lodandolo E chiedigli perdono In verità Egli è colui che accetta il pentimento Sura centoundicesima Periscano le mani di Abu Lahab E perisca anche lui Le sue ricchezze e i suoi figli Non gli gioveranno Sarà bruciato nel fuoco ardente Assieme a sua moglie La portatrice di legna Che avrà al collo una corda Di fibre di palma Sura centododicesima Sura centododicesima Di Egli Allah È unico Allah È l'assoluto Non ha generato Non è stato generato E nessuno E nessuno È uguale a lui Sura centododicesima Di Mi rifugio nel signore Dell'alba nascente Contro il male Di ciò che ha creato E contro il male Dell'oscurità Che si estende E contro il male Delle soffianti Sui nodi E contro il male Dell'invidioso Quando invidia Sura centododicesima Sura centododicesima D Mi rifugio nel signore degli uomini Re degli uomini Dio degli uomini Contro il male Del sussurratore furtivo Che soffia il male Nei cuori degli uomini Che venga dai demoni O dagli uomini Sura centododicesima Sura centododicesima Sura centododicesima Sura centododicesima Sura centododicesima Sura centododicesima Sura centododicesima